musica 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 hakun a matata Ok Comunque Acuna matata ragazzi Ben ritrovati dal vostro diccio Che protetto dove siamo tornati Su David McRae Un po' arrugginiti Perché da poco lo registro E c'è Dante che sta tagliando l'erba Le foglie Ma credo che taglierà quella porta In 500 pezzettini Eh Eh un po' forte l'hai amato eh Un po' forte Poi mi avete detto che Ho sbloccato Tipo una nuova abilità Sono molto curioso di vedere Che cacchio ho sbloccato Eh Oh mamma mia Sì Cosa in pelle Ah Oh yeah E ne resta una Non manca forse Cioè non manca tanto Per la fine di sto gioco eh Credo Hai capito Ma sto coso con due bazzucate no eh Beh no Effettivamente no Effettivamente no Ok signori Missione 18 Il distruttore Facciamo menu potenziamenti Perché mi sbaglio sempre con menu Pozioni sì Va bene Sono messo bene oggi Allora facciamo Lo so Mi avete detto di non fare l'automatico Ci avete ragione Però è meglio che lo faccio Uh ma tra l'altro Già che ci ha fatto E ci ha lasciato 1400 Io posso vedere un attimo Vedete Ne che palle Oh mazza Che sfiga Ma per così poco Vabbè Io quelli li lascerei Sti cacchi Capirei abbiamo 28000 Neanche Neanche a spereracce Che ci danno qualcosa Beh sì 2800 Sono un po' fulminato Regà Sto un po' fulminato oggi Col fatto che ho dovuto Rimettere in piedi i pc Vai Dante Ok Ok Comunque non so se avete notato Quanto si vede meglio Pesano un fottio i video adesso eh Però Per il fatto che ne faccio uno o meno al giorno Salience Oh Il suo funerale Con quelle cattive Sì ma sfodera l'hai amato Per favore Gliela lanciata addosso Praticamente Oh 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 Ah ci ha piantato la sua So You ready to eat your words Do as you wish Your attempts are futile Eh sì Eh no Sei un cotardo però eh Sei un cotardo Tiragliela in testa Ti prego Oh 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 Vai Vai via A casa Go home È piccolo Dai ti prego Tira fuori Dante Da là dentro Che io voglio usare Dante Mi piace davvero tanto Dante No la grafica è migliorata notevolmente ragazzi Mamma mia Proprio altri Cioè Katana usata dal fratello di Dante Serve per aprire e distruggere le porte dell'inferno Ma anche per distruggere Vabbè sì Avete capito Eh Quando ottieni amato Puoi usarla con lo stile del Dark Slayer Per essere noi premi di nuovo il tasto dello stile attualmente in uso Ok Dovrebbe essere questo qua Sì Esatto Oh Che 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 Eh No allora Aspettate Con calma Fatemi Ok No eh Devo Ah Mi devo ricordare un paio di cosine Ah ecco Ok Eh Le pistole Vabbè ma no no Scusa Adesso io non voglio essere quello che Che rompe le balle No Ma magari devo andarmene per di qua Vieni qua Fatemi vedere Oh Oh È morto male Ah Vedete posso fare il teletrasporto Oh qua 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 Sopra di lui No Non ci sono riuscito Eh t'ammazzo Vedete Posso fare il teletrasporto bellissimo E quindi Se non ho capito Se guardiamo Oh Eh 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 Liscio per te Liscio per tua Aspetta Provo a andarmene Per di qua eh Che sicuramente Io da qualche parte Dovrò andare Cioè Che vuoi Io non so gli attacchi Oh 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 Cioè vi faccio vedere Vedete qua non posso Ma non posso come faccia Ucciderti Non so come va Eh 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 Ok Ti avvicini per favore No Da qua me ne devo andare Da qua me ne vado È meglio che mi rimetto di qua Perché prima Che fai Ah C'hai paura allora Eh Ok E come Come ti colpi Come lo colpisco Non gli faccio niente Cioè Non Non lo sfrizzico neanche Aspettate Ho trovato qualcosa di interessante Interessante Ho trovato comunque qualcosa di interessante Vediamo un po' Eh sì Ho fatto qualcosa di interessante Eh Eh Lo andiamo a prendere per di qua Vai È qui È qui È qui È qui Cioè Tipo l'hai visto Vai 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 Sparaci Sparaci Ok Vai 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 Ma lascia sta lui Che cacchio di frega Davvero Lascialo sta Lascialo sta Eh vabbè Io mi devo un cazzare forza ogni volta Vai 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 Non mi ricordo niente signori Ok mi sto ricordando qualcosa Vai Spara 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 Ok Me ne vado per di qua Vai 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 Al limite potrei anche No Pensa a lei Pensa a lei No Via Questi sono bastardissimi Perché non so dove ci mandano Vai Voi adesso mi starete direndo Ma scusa ciccio Usa quella la La spada cosa dell'umoniaca Oddio è un pochino più lenta Ok È un pochino più lenta Io cerco di fargli Danni Vai Provo Provo a fare come dite voi Perché sicuro me lo state dicendo Eh Vediamo un po' eh No Questa non è Questa non è Qua 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 Oh Ma avete detto l'ho fatto eh Quindi Ce ne abbiamo rotte poche Ne abbiamo rotte poche Via 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 Voglio Sicuramente o dobbiamo trovare altri di quelli Questi io li lascio sta perché secondo me sono Abbastanza Inutili Sono salito Che bello Ciao Se vola Eeeh Fanculizzate dai Sparaglie Sparaglie Vai sparaglie Sparaglie tantissimo Non pensavo di riuscire ad andare qua sopra Ma invece l'ho fatto Invece l'ho fatto per tutti voi Per tutti voi Polizia in su Polizia in su Vai 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 Un momento un po' Un momento un po' critico Ok Ok Vieni vieni In fronte te sparo Non c'è critica e te sparo in fronte Guarda che te sparo davvero in fronte eh Vai Uh È successo qualcosa di incredibile Pensavo che cascasse de culo su la piramide là Vai Dante Non ci pensa proprio Poi Ok siamo Ok sono riuscito ad andarmene Qua ho visto qualcosa di interessante C'è tipo Un cannone Vai Oh l'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho ributtato giù Ah vedete praticamente Diciamo che non è molto Non è molto difficile come Come si può pensare inizialmente Anche se qua io ho sbagliato totalmente direzione Quindi Vai se vola Eh 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 L'ho trovato eh Vai devi puntare su di lui Ok bravissimo Andiamocene andiamocene Queste io le lascio Non penso proprio che ci dobbiamo fare niente Me ne vado per di qua Me ne vado ancora Perché sicuramente Dobbiamo rifare la strada che abbiamo fatto prima Vedete Se io faccio così faccio un po' prima però No no Lascia stare lui Cioè lascia stare loro Vai Vai Però eh da qui Che faccio poi Pronto Ok Mi sa che sei leggermente Ma leggermente proprio Ma sapete che significa Leggermente incazzato Ma proprio Madonna mia Che attacco stai facendo Ma stromso Che non sei altro No 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 Via 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 Ok Me ne vado 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 Ma proprio tanto Via 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 Non mi prende nulla Eh vabbè Ma la finirai Primo o poi con questi attacchi Vero? È successo qualcosa Sta succedendo qualcosa È diventato tutto Ok 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 qualcosa è cambiato Adesso posso prendere Gli posso prendere la mira Guardate Adesso provo a caricare un bel po' Vai Non gli ho fatto niente Salve Cucu Ciao ti posso menare Sì che ti posso menare Vieni 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 qui ti devo dire una cosa importantissima Vieni bravo bravo Continua così Continua così Vai 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 Mentre gatti Mentre gatti Che siamo dei fighi della madonna Bravo vieni qua Oh Eh questa non è molto buona per Me ne vado me ne vado Me ne vado me ne vado per di qua Pronto Venga qui Bravo 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 Continua così Vai Vai a lui a lui Ma però Sapete che dico Che secondo me conviene Ah Aspetta che questo mi sta a fa Carate kid Vai uso Una di queste qua Che tra l'altro mi è rimasta solo questa Vai Ah Ok no Secondo me conviene che ho avuto Utilizzo le pistolette Che secondo Uh E va a fanculo Ma sa che Secondo me Secondo me Secondo me ce perdo Eppure tanto Va a fanculo Mamma da E questo non Non mi è buono No vedete No vedete Ah Via Vai Eh Aspetta proprio A caricarlo tipo tantissimo Ok l'ho Preso Ah Ma sa che lo posso Lo posso andare a picchiare Vai Mamma mia Buttateci in faccia Proprio Perfetto Vai 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 Rompilo Rompilo Ma come Non l'hai rotto mai Vieni qua Ah Oh Non so che cazzo ho fatto Ho fatto cose incredibili Volevo usare la Yamato Sinceramente eh Sono sincero con voi Volevo Utilizzare La Yamato E me ne vado tantissimo Me ne vado Me ne vado Me ne vado Anche perché C'è rimasta pochissima vita Pronto Vieni qua Guarda che ti rompo eh Vai 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 Per di qua Per di qua E io gli sto facendo Vai vai Prendiamoci un po' di queste Vai riprendiamoci queste C tua Non gli faccio niente con questo E me ne vado E me ne vado Ce l'ho fatta C'è nel senso Ce l'ho fatta È ricascato Sto senza vita Non c'ho più vita da prendermi Quindi questa volta È quella buona Se muore Adesso Bene Perché se no Se la prendiamo Super Vai Proprio ci sono entrato dentro Ci siamo entrati con la spada Proprio Oh Ma non diciamo cazzate Eh Oh Nella sua Sì vabbè non vediamo che cos'è E mo ci pensa tante C'è nero Vedi Vai nero Quanto mi piace nero È il momento di fare i buchi per terra Nero è il momento di fare i buchi per terra Sentire sotto che colonna sono ora Ma quanti mi piace Quanto mi piace Mamma mia Quanto mi piace Quanto mi piace Se il video vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Domani Non so se ci saranno video Perché oggi sarò a Milano Per voi Quindi Pollicione in su Commentate Condividete Ciao Ciao